Ora, fratello dell'Episcopato, vogliamo dire noi tutti la gratitudine per i gesti belli di ospitalità che Palermo, la tua Sicilia, ci sta offrendo in questi giorni. Certo, le grandi e straordinarie bellezze dell'arte che abbiamo potuto già contemplare a Cifalù di qui e che vedremo nei giorni a venire, cerco la grandissima storia di creativo mescolamento di popoli che questa isola custodisce e che, in larga misura, alla radice della capacità di accoglienza e di ospitalità ultimamente cristiana, di cui la vostra gente è invevuta e che resta un paradigma prezioso e speriamo sempre più creativo, sia per l'edificazione della comunione nella Chiesa, che abbiamo celebrato la Messa per la Chiesa universale, da cui immagini le nostre Chiese, dalla cui immagini sono formate e che realizzano dalla Chiesa, nella Chiesa particolare, per la comunione, ma soprattutto siamo grati a questa Chiesa per la sua storia di santità e per il Beato Dompino che stiamo imparando a conoscere meglio e che sentiamo così vicino al nostro stile pastorale di vita. Credo che Dompino sarà un grande santo per la Chiesa universale e lo sarà in più particolare per i ministri ordinati, per i sacerdoti secolari, perché proprio nell'esperienza del abbandono al servizio del popolo dentro la Chiesa, che ha saputo sfidare la morte della certezza potente della risurrezione. A lui chiediamo realmente una vicinanza, un'assistenza a noi tutti e di cuore vogliamo che anche da questo gesto che riprende gesti significativi di rapporto tra le nostre due Chiese possa scaturire un futuro di sostegno riciclo, di ascolto, di condivisione, di azione comune per il bene di tutte le Chiese italiane, di tutte le Chiese europee, perché il Signore attraverso la Santità li sollevi dalla stanchezza in cui sono precipitate e perché sull'onda dell'insegnamento di Papa Francesco ritrovino il loro vero volto che noi tocchiamo con mano, nel senso dei fedeli che incontriamo in tutte le parrocchie, in tutte le realtà, con un senso di fede quasi ormai connaturata. Certo, segna di più coloro che sono più avanti nell'età, ma tutti questi giovani preti sanno molto bene che devono comunicare con la loro vita e con l'annuncio esplicito e diretto di Gesù e di Gesù con la condivisione del bisogno di tutti, devono comunicare questa sensibilità, questo senso. rinnoviamo pertanto a te e a tutta la tua Chiesa la nostra gratitudine e la vogliamo segnare con un dono che è un po' appariscente, ma che invece è modesto dalla sua sostanza, perché è il classico metallo dorato e il dono è una croce, della riproduzione di una croce molto antica del IV secolo che si trova in Sant'Ambrogio a Milano e che l'Arcivespo di Milano è uso donare a tutti i Vescovi per la visita. Grazie a te, 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 questo da parte dei responsabili della formazione permanente dei libri.